Favore l'integrazione sociale tra persone di diversità, cultura, condizione fisica e soprattutto una coesione sociale tra soggetti normodotati e soggetti con disabilità. Con la quinta edizione della passeggiata disparata si è rinnovato l'appuntamento voluto dal gruppo podistico Avis Spinetoli Pagliari che dal 2019 organizza lungo la pista ciclabile di Pagliari una passeggiata che ha coinvolto normodotati e disabili per trascorrere qualche ora in amicizia, divertirsi e fare anche attività sportiva. Siamo molto fieri perché riusciamo a coinvolgere la disabilità tra virgolette però vorremmo che con la partecipazione di gente, cittadini e cose di questo genere si diminuisse un po' la diseguaglianza, che fossimo un pochino come messaggio tutti uguali. Abbiamo un bel territorio che ci consente di farlo perché la pista ciclopedonale come si dice noi la calpestiamo giorno e quasi, no anche notte, notte e quasi giorno insomma sia questa qui a Lungotronto che quella illuminata che abbiamo dietro al palazzetto dello sport. Le associazioni che abbiamo sono l'Aism, Amici Risparati, l'Unitalsi, i Cirenei, la Cooperativa e l'Aism abbiamo quest'anno quindi stiamo crescendo, ogni anno c'è la volontà di stare insieme. Una iniziativa apprezzata da tutti, sempre più partecipata, in grado di riscuotere sempre maggiore successo e che gode anche del sostegno dell'amministrazione comunale di Spinetoli. Il Comune di Spinetoli e l'amministrazione comunale è stata sempre onorata di patrocinare questa iniziativa perché il gruppo podistico Avis è diventato ormai negli anni una realtà importante del nostro territorio. Tra le innumerevoli iniziative e i progetti questa è quella più partecipata da tutti, senza nessuna diversità. Ci sono anche molte associazioni con ragazzi di disabilità e quindi noi siamo a fianco del gruppo podistico Avis sempre in queste occasioni e anche in tutti gli altri progetti che nel nostro territorio stanno arricchendo di anno in anno sempre più la partecipazione della cittadinanza. Alla passeggiata disparata, come ogni anno, ha voluto esserci anche il parroco della Chiesa di San Paolo, Don Basilio Marchei, che dopo 25 anni saluta i suoi parrocchiani. Al suo posto arriveranno due sacerdoti, Don Davis Bertuzzi e Don Alessio Cauci. Ebbè forse anche più gente abbiamo questa sera e la comunità che cresce sempre di più perché senza comunità, senza vivere insieme non si combina assolutamente nulla. Abbiamo tante sigle qui che sono presentate, che ormai diventano una cosa tradizionale. Ecco, io forse per questa ultima volta farò questo passaggio, perché il Signore vuole che verranno due giovanotti a posto mio per seguire l'opera, ma io stavo sempre qua, non è che vado.